Un serpentone di colori, musica, maschere ha dato inizio alla cinquantesima edizione del Carnemale di Castrovillari. Prima sfilata dei gruppi mascherati e carri allegorici iscritti al diciottesimo concorso avessi dedicato. La giuria era formata esclusivamente da bambini delle scuole elementari a condurre Corinne Gellet e Carlo Catucci nel parterre Michi Falco. Prima uscita di queste allegre colorate maschere, tutte come sempre prodotte artigianalmente nelle case e nelle sartorie di Castrovillari che hanno sfilato lungo il nuovo percorso ad aprire il mini folk della Proloco del Pollino, a seguire i tredici gruppi iscritti al concorso in maschere, dalle matite colorate, al ritorno dei Borboni, al mondo multiraziale, al regno incantato delle farfalle, al mondo di Quark, ai tamburelli, alla magia dell'India. Oltre diecimila visitatori venuti dai paesi vicini proprio per assistere alla manifestazione carnascialesca. Il tempo ci accompagna, è meraviglioso, speriamo di avere le stesse condizioni meteorologiche anche nei prossimi giorni. L'entusiasmo della gente c'è tutto, noi siamo felici per questo fatto, speriamo che vada tutto bene e la gente soprattutto si diverta. Si replica domenica 3 febbraio e martedì 5 febbraio.